un cordiale saluto ben ritrovati a questa nuova puntata di vera mattina eh vado a dare il benvenuto immediatamente all' avvocato Andrea Agostini buongiorno avvocato buongiorno buongiorno a tutti tra poco parleremo di superbollette ma prima eh vorrei invece eh dar conto di una eh notizia eh giallo intorno alla eh morte di una donna eh una eh donna di settantasette anni eh decesso ha venuto questa mattina eh in casa della stessa eh nelle campagne di eh Senigallia si chiamava Valeria eh Baldini la eh signora che è deceduta questa mattina mentre faceva colazione era malata di Alzheimer quello che vedete è il sito di Vera TV appena aggiornato e gli inquirenti non escludono una sorta di tragedia della disperazione si ipotizza infatti che possa essere stata uccisa dal marito forse soffocata la donna è stata trovata morta nella cucina della loro abitazione in via strada della foresta nella frazione filetto per la precisione il marito è stato portato in caserma dai carabinieri che stanno cercando di capire i contorni della tragedia sarà ascoltato anche il figlio della coppia che a quanto pare stamane era in casa ma stava eh dormendo e ehm altro aggiornamento eh riguarda il fatto che eh tra poco dovrebbe arrivare anche il medico legale nonché il eh magistrato ovviamente tutti gli aggiornamenti eh nell'edizione delle tredici del nostro Tg dove vi racconteremo nel dettaglio eh quanto sta accadendo in queste ore ma torno dall'avvocato Agostini perché la strada che porta al tetto del prezzo del gas avvocato è ancora in salita l'accordo al Consiglio europeo è saltato è ancora lontano ieri la borsa di Amsterdam ha eh battuto un prezzo che è salito del tredici per cento arrivando a cento ventotto euro rispetto ai centosettantasette a frenare il price cap sono eh la Germania l'Olanda seguite da Austria e eh Ungheria. Sette mesi di trattativa non sono bastate. Ieri il ormai dovremmo quasi chiamarlo ex premier comunque il premier ancora in carica Mario Draghi eh ha bacchettato gli stati eh membri dicendo smettiamo di fingere unità perché con la recessione stiamo facendo un regalo a Putin. Vorrei chiederle anzitutto una considerazione su quella che sta accadendo in Europa perché se questo accordo eh sembra ancora lontano eh le famiglie eh quelle italiane eh hanno ancor più preoccupazione dato che le bollette continuano a lievitare. Sicuramente la prima considerazione è che manca in Europa non c'è una politica unitaria eh l'Europa per come vorremmo che esistesse quindi come unità eh non dico di pensieri. Il pluralismo è sempre ben accetto ma di azione e in tempi rapidi di risposta non esiste. Di questo sta approfittando la Russia di questo stanno approfittando gli Stati Uniti nel mezzo vasi di corcio tra vasi di ferro. Cerchiamo di capire però che cosa possiamo o non possiamo fare se siamo in balia eh delle onde oppure eh ci sono delle possibilità per diciamo arginare un po' questa emoragia. Riferimento è ovviamente al caro eh bollette. Quando avvocato è possibile procedere alle modifiche contrattuali? Allora eh domanda assolutamente pertinente di grandissima attualità. Eh tutti ormai abbiamo sentito parlare del decreto legge la UTBIS. Eh questo decreto legge sostanzialmente in due commi già da settembre scorso eh impedisce eh fino al trent'aprile duemila ventitré eh ogni modifica contrattuale unilaterale da parte del fornitore per ciò che concerne l'aumento del prezzo. Una norma che sembra chiarissima come pure il comma successivo il secondo che dice che eh i preavvisi eh che nel frattempo fossero arrivati di questi aumenti sono sono inefficaci eppure devo dire siamo in balia delle onde tant'è che le autoriti eh l'arena in particolare ha già eh avviato quattro istruttorie con riferimento a quattro fornitori diversi di energia e ha mandato venticinque domande a chiarimento ad altrettanti fornitori per capire qual è la politica aziendale con riferimento ai prezzi. La norma sarebbe chiara eh e l'interpretazione è data dalle associazioni dei consumatori anche mh ampia di tutela. In realtà però mi verrebbe da dire nessuno l'ha commentata così ma io sento di di vederla così quando il tredici ottobre scorso a Rera e a e a Gcm quindi l'autority dell'energia e della concorrenza hanno dato interpretazione ai casi che rientrano in questa eh norma eh di tetto questo eh price cap tutto italiano ehm i casi si sono estremamente ridotti e mi verrebbe da dire che sono mh esempi di di forma ma ma di poca sostanza. Mi spiego eh stando alla lettera della norma il riferimento al blocco era a ogni eventuale clausola contrattuale ogni eventuale clausola quindi molto ampia. Poi il riferimento è a modifiche unilaterali eh concernenti il prezzo. In realtà chiunque di noi abbia dimestichezza eh di contratti con i fornitori sa che già in questi modelli sui quali noi non possiamo incidere è già tutto trovato in accordo eh mi spiego eh sono già previsti eh degli ehm degli strumenti delle tempistiche che consentono di aggiornare il costo e quindi averlo convenuto cioè aver fatto un accordo all'inizio su come poi andare a mh effettuare questi servizi anche riconoscendone una facoltà unilaterale al fornitore si dice a base contrattuale di accordo non è quindi una modifica unilaterale oppure quando abbiamo quelle offerte no che valgono dodici mesi ventiquattro mesi ecco lì già c'è un termine quindi il il prezzo che dovesse essere aumentato successivamente non sarà una modifica unilaterale anche qui c'è stato un accordo precedente intenderla così da parte di ARERA GCM ha ristretto moltissimo il campo d'azione è come dire eh il contratto è in essere questo è il caso di riferimento il contratto è in essere non ci sono scadenza avvenire o possibilità che il fornitore aumenti eh il prezzo di punto in bianco si dice no guarda aumentiamo perché eh l'energia il gas sono aumentati nel costo questo non è possibile fare ma ripeto eh parliamo di un caso un caso limite anche perché si potrebbe dire a fronte di questo aumento io non mi preoccupo di aumentarti il prezzo ma recetto dal contratto perché non riesco a sostenerlo in questo caso un recesso come questo ecco qui siamo nel campo degli abusi e la normativa aiuta non si può uscire da un contratto dalla sera alla mattina bisogna comunque andare da un giudice che accerti in favore del fornitore che c'è un'eccessiva onerosità sopravvenuta che giustifica la risoluzione del contratto quindi se arrivano eh degli avvisi o delle comunicazioni dove si dice eh aderire alla nuova formula altrimenti scatta il distacco eh ce ne andiamo e non avete più energia qui siamo addirittura nel campo della truffa perché ad esempio i piccoli consumatori che conoscono bene la possibilità di recesso libero da parte del fornitore non rimarranno mai senza energia perché esiste un servizio cosiddetto di ultima istanza che garantisce comunque tutta che il servizio venga erogato. Spero di non averla fatta troppo complessa ma ecco la norma secondo me si è mossa con le migliori intenzioni la ricaduta pratica data da Rera GCM secondo me è estremamente riduttiva. Come possiamo prevenire le truffe avvocato? Innanzitutto c'è uno strumento immediato che è quello della segnalazione del reclamo cioè come il fornitore mi propone qualcosa eh che non mi convince e posso con una PEC eh una raccomandata che ho ricevuto di ritorno fare il reclamo. Da qui si apre un procedimento col fornitore e si accertano le condizioni eh se poi non si trova un accordo o qualcosa non funziona è possibile andare incontro a una conciliazione presso la Rera ehm una durata massima di 90 giorni ma diciamo che con un mese e mezzo di solito si risolve e in questi casi e che cosa ho diritto? Se ho pagato di più nel frattempo perché ad esempio il recesso era era ingiustificato o l'aumento del prezzo ingiustificato riottengo le somme che ho versato in più ma soprattutto riottengo il trattamento contrattuale che avevo diritto eh sin dall'inizio. Una cosa che invece però molti utenti non sanno è che non si può ottenere un risarcimento del danno ulteriore no? Molti vogliono il risarcimento del danno. No, questo non c'è. Se poi la conciliazione non soddisfa allora soltanto in quel caso si può andare davanti a un giudice. Questo è un po' l'iter. Comunque di fronte a una ipotetica truffo a un contratto che non convince secondo me la soluzione più immediata più economica è un reclamo al fornitore. Grazie all'avvocato Andrea Agostini per questi chiarimenti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.